Il fatto, Grillo sfotta i partiti senza di me, vi beccavate i fascisti, altro che antipolitiche, sono l'ultimo salvagente per evitare il trauma, grazie a noi in Italia nessun Le Pen e nessun nazi, poi, ve lo dicevo, vieta la televisione ai suoi candidati, ribadisco, paternalismo ce n'era in quella trasmissione di Ballarò, è molto fastidioso, ma indubbiamente questo divieto senza giudizio, però fa somigliare molto questa azione di Grillo a molte annunciate dall'ex Premier Berlusconi. Paolo Floresta d'Arcaes propone la foto di Vasto, Bersani, Vendola e Di Pietro tocca a voi. Carlo Freccero dice che Grillo è un sismografo, siamo di fronte a un terremoto e Marco Pannella gli dice, finalmente Beppe ti aspetto da sempre, ecco le fotografie, le due interviste, Freccero e Marco Pannella. Il professore scopre che Berlusconi è uno statista, così si commenta sul fatto il ripensamento. Leo Luca Orlando, su richiesta della sorella di Falcone, dice sì, con Falcone sbagliai i toni, ma non ho tradito, la sorella aveva parlato di attacchi dolorosi. Allora, fin qui la vicenda generale, poi la Telecom stacca la 7 dalla compagnia, De Benedetti può avere le frequenze, la vede così il fatto quotidiano. Allora, Caterpillar AM, a voi. Eccoci. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno. Beh, oggi abbiamo molti temi caldi, intanto le diciamo quello che ci ha detto poco fa il professor Piepoli, il professor Nicola Piepoli, gli abbiamo chiesto chi ha vinto veramente le elezioni, lui ci ha detto due persone. Uno lo sanno tutti, Grillo e i grillini, l'altro... L'altro invece molti non se ne sono accorti è stato Casini, cioè è fallito il progetto di un terzo polo come grande casa del centro, il famoso grande centro delle comiche, però individualmente l'Udc ha avuto una grossa affermazione, è cresciuta dell'1%. L'Udc è salito dall'1% e quindi l'unico che ha detto noi abbiamo perso in realtà è l'unico che ha vinto insieme a Grillo. Che cosa c'è dietro a questa dichiarazione di Casini che il giorno prima dice noi del terzo polo non abbiamo funzionato e però in realtà è uno di quelli che ha guadagnato, secondo alcuni c'è il suo progetto di adesso porsi a capo dello schieramento moderato. Lei che dice? Guarda, rispondo con Buttiglione che di Casini è amico e collaboratore perché siccome l'ho sfruculiato un po' ieri, gli ho detto le parole sono importanti, lui è un professore, lui è un germanista, conosce il tedesco, allora l'ho preso un po' in giro, le parole sono importanti come diceva qualcuno, dico moderati, che vuol dire moderati? Quando lo usa Berlusconi mette dentro quello che non è affatto moderato, per esempio che c'entra Martinelli che prende il fucile a pompa e lo punta con i moderati, non c'entra nulla o no? Sentite se la regia ci dà la risposta, la risposta che ci ha dato il professor Buttiglione sul senso della parola moderati. Quando si parla di moderati, la parola moderati ha tanti significati, quello di Berlusconi che è un significato legittimo, è quella enorme pancia di cetimedi del paese che è la grande riserva di laboriosità, di energia, di inventiva, di creatività e che si può condurre però da due posizioni diverse per andare agli estremi, una è quella di De Gasperi, l'altra è quella di Mussolini, perché anche Mussolini abbia un consenso di massa nella società italiana, di cui furono portatori cetimedi, allora il problema è come li guidiamo questi moderati? Seguendo la lezione di De Gasperi o seguendo la lezione di Mussolini? Così parlo Buttiglione! Direttore però c'è l'espressione cetimedi proprio perché se non sono moderati li chiami cetimedi, non voglio banalizzare però... Questo è il problema, De Gasperi o Mussolini, mai che si dica un'einaudi ad esempio, abbiamo vabbè, abbiamo avuto fascisti, laici, poi abbiamo avuto dei grandi cattolici, quello che è mancato in Italia è un partito liberale degno di questo nome, è qui Ardemagini, grande dramma, è qui è la battaglia solitaria quasi di Ardemagini, è il vulnus di questo paese rispetto ad altri paesi europei che hanno fatto meglio di noi, non solo in economia ma anche nei diritti civili, la destra liberale, quella stessa destra liberale che forse in America si trova spiazzata adesso dalla sfida lanciata da Barack Obama che dice sia le nozze gay. Non vorrei fare cadere questa cosa di Ardemagini perché lì avete pure la storica, quindi il problema è che in questo paese in realtà un inizio di pensiero liberale c'è stato anche di destra e non solo di destra, di destra mi riferisco a Pareto e Mosca che poi però non a caso faceva conoscere uno come Norberto Bobbio, ma se voi guardate bene, che so a un certo Gramsci ma Gobetti, era interessante ma anche Gramsci in alcune cose era, pur essendo comunista voglio dire era interessante, il problema è che il fascismo rompe completamente questa cosa e dopo il fascismo nel quadro della guerra fredda si comincia da un altro punto di vista. La questione drammatica è probabilmente la scoperta che il partito d'azione così importante e così amato da alcuni di noi era assoluta minoranza, prese nel voto meno voti di quanti attivisti non avesse e questo naturalmente ha portato alcuni di questi liberali, lo posso dire, a diventare dei insopportabili tromboni che ci hanno fatto per tanti anni lezioni di modernità, io non faccio nomi, lezioni di modernità, allora c'erano Moro, c'erano Berlinguer, forse sbagliavano tutti e due, ma bisognava affrontare i problemi, no? Ci hanno spiegato le formule magiche, vero Benedetta ci lavori in quel giornale, le formule magiche su come modernizzare il paese, non è funzionata neppure una di queste formule magiche, ragazzi capisci? Pandella rimaneva solo con le sue battaglie. Direttore, voglio portare acqua allora al mulino di Ardemagni, anche in Germania hanno avuto quello che hanno avuto, peggio, addirittura forse se si possono fare comparazioni di quello che abbiamo avuto noi, però lì c'è una destra liberale, aperta sui diritti civili, il vicepresidente gay, Westerwelle del governo tedesco, insomma, eppure anche loro è possibile. I diritti civili è solo perché ci sono più protestanti che cattolici, guarda, non è vero pensiero liberale. Anche quella componente è fondamentale. Da noi abbiamo avuto veramente dei pensatori, delle menti, delle punte di diamante che però non avevano dietro nessuno, per cui rimane così. Ma ci arriveremo, ci arriveremo. Vabbè, insomma, è la sfida del futuro. Ardemagni, io mi affido a lei. No, ma io mi affido ad altre ancora, quindi siamo a posto. E siamo nel solito scaricabarile italico, evviva. Come è andato lei? Il sondaggio sui matrimoni omosessuali, come è andato? Più del 90% sono a favore della posizione di Obama, anche se poi quando vai a leggere dentro, nei commenti, non solo nel semplice voto, ti rendi conto che molti sono più per una soluzione alla unione civile e il tema delle adozioni che viene, che non era oggetto del nostro dibattito, strettamente viene spesso messo fuori, dice sì però le adozioni, attenzione. Io Ardemagni sono stata colpita da due cose per riprendere, queste cautele, cioè le adozioni fuori, eccetera, eccetera, che primo alcune persone dicono sì registri delle coppie rifatte a forme di riconoscimento, ma non le nozze, ma anche con un'argomentazione che in effetti ha senso in un paese come l'Italia. Non andiamo troppo di corso, non forziamo la mano, può essere un passaggio intermedio, perché un ascoltatore, per esempio, ci ha detto no, bisogna abituare, perché la mentalità comunque è talmente arretrata in molte aree e in molte realtà che forse è meglio un passaggio intermedio. L'altra cosa che mi ha colpito, direttore, proprio a livello di costume, secondo me è un po' la radice di questo problema, è, e lo dico proprio come osservazione neutra, il modo in cui le persone che intervengono ci tengono a precisare le loro preferenze sessuali, ci tengono a precisare che sono eterosessuali e non omessuali. E questo mi colpisce perché ancora manca quel pezzo che c'è in poche realtà, in poche grandi città, in poche realtà veramente avanzate da questo punto di vista, che è veramente indifferente con chi va da una persona. Ancora c'è il bisogno di come di collocarsi in questa cosa, perché comunque la percezione ancora non è così serena, così rilassata. Il sindaco di Parigi, Delanois, gay, nessuno si scandalizza, nessuno dice niente. Non se ne parla neanche, non è neanche una cosa di cui... È una cosa normale e allora il paese forse va in quella direzione. Obama è il primo presidente degli Stati Uniti a dichiararsi a favore delle nozze gay, dicevamo oggi neanche Clinton, che pure non era un bacchettone, si era mai pronunciato in tal senso. E allora, questa è una delle notizie, l'altra quella delle elezioni, la terza che ci piace sottolineare, direttore, all'attenzione degli telespettatori di Rai News e alla sua, è quella che abbiamo trattato nella prima parte, ormai un'ora e mezza fa, verso le 6.10. C'è sulle prime pagine dei quotidiani di oggi lo scandalo Montepaschi. Voi ieri ne avete parlato tantissimo, anche con il giornalista di Report che ha curato l'inchiesta domenica. Ebbene, una delle questioni che è passata abbastanza sotto silenzio rispetto alla vicenda Montepaschi è che 20 giorni fa, neanche 20 giorni fa, due settimane fa, il direttore della Nazione, Mauro Tedeschini, è stato fatto fuori dal suo editore, è stato tolto dalla direzione del giornale per un articolo che era stato scritto intorno alle vicende del Monte dei Paschi di Siena. Anche se ancora tutto lo scandalo non era così evidente, lui aveva già osato toccare l'argomento. Esatto, per cui non era neanche una vicenda grave come quella che è emersa nell'inchiesta dei report di domenica, quella che è sulle prime pagine dei giornali oggi, eppure ancora una volta possiamo aggiungere, si è verificato uno di questi casi di allontanamento forzoso di direttore per un pezzo scomodo. A noi ha abbastanza fatto impressione direttore, perché si parla sempre delle censure, la politica che interviene sui giornali, sui direttori eccetera, però quando è l'economia o in qualche modo la sua estensione anche in diretta a far fuori direttori e giornalisti è preoccupante. E fondamentalmente se ne parla molto di meno. Non c'è dubbio, questo è il vero problema, io non sono uno di quelli che dice che ci vuole l'editore puro, ma in genere avere degli editori che hanno interessi economici mette molto a rischio soprattutto sulle questioni economiche. Siccome in Italia spesso la censura è legata a questa crisi politica che ci trasportiamo nei decenni, questo aspetto è meno rilevante, ma nel caso di Tedeschini che voi avete sollecitato e sottolineato anche intervistandolo questa mattina è sicuramente una censura di tipo economico. Vi faccio vedere il tirreno che dice Monti dei Paschi sotto inchiesta, vedete in apertura e poi il Corriere di Siena, la finanza al monte. Understatement è il titolo della Corriere di Siena. Titolo sobrio. Abbiamo una gran vignetta di Cinzia Poli. Attenzione, eccola qua. Blitz della finanza al monte dei Paschi di Siena. Non tutti i loro bancomat rilasciavano gli scontrini. Eccezionale, grazie. Grazie. Arrivederci, direttore. Soltanto un'occhiata ancora alla Repubblica perché volevo farvi vedere Grillo ai partiti o me o i nazisti e poi l'intervento di Napolitano, terrorismo, lo Stato non si farà intimidire. Dalla Repubblica al manifesto i disoccupati occupano e qui si parla di termini merese, la chiuso ed è scappata. La produzione è ferma da novembre. Il nuovo imprenditore che avrebbe dovuto rilevare la fabbrica e i suoi lavoratori non riesce a tenere i fondi necessari alle banche. Oggi busserà al Ministero dello Sviluppo in ballo a 95 milioni di euro. Termini merese muore nel silenzio generale. 400 operai per disperazione occupano l'agenzia delle entrate dove intendono rimanere accampati finché non otterranno risposte. Allora, dopo la pubblicità Lorenzo di Las Plasas, le nostre notizie.